Musica Benvenuti in questo nuovo video della Big Vanilla Scusate per il ritardo di un giorno, normalmente esce il martedì Ma c'è una buona ragione, sta succedendo di tutto in questo mondo Lo so, Steph Domani potrebbe esplodere tutto, Fere No, dai, così no, non esageriamo Però spieghiamo cosa sta succedendo È comparso un account YouTube che si chiama Big Ladro E ha rubato il nome da noi, tra l'altro, brutto e maledetto Da te, Steph, sei tu ad aver nominato il ladro Big Ladro Perché ti vuole incolpare, vuole che sembri tu il colpevole Anche secondo me, comunque è comparso questo account YouTube E sta pubblicando dei video dove mostra animali rapiti Case che esplodono, ad esempio con le belle facce Tutte cose terribili che stanno succedendo E nessuno sa chi è questo ladro Perché siamo in venti nella serie È impossibile avere dei sospetti sensati E di conseguenza stiamo tutti indagando Ma nessuno sa chi è Non ci si fida di nessuno Io non mi fido nemmeno di fare, dato che è stata usata la TNT No, non ho TNT, guardami le tasche, io non ho niente Guarda, questi sono i miei utensili, i piccoli di netherite Sono una bravissima persona Magari avessi della TNT Se avessi avuto della TNT, Steph, tutta la Big Vanilla sarebbe spot Ma perché? Prima cosa Seconda cosa, una domanda importantissima da farti Sei tu? No Il Big Ladro No, non ha senso Perché dov'è? Sei sicuro? Perché dov'è? Perché io non mi fido più di nessuno Stanno succedendo cose terribili Poi a tutti Quindi qualcuno È una fake persona innocente C'era la mia skin C'era 2317 Era fatto tutta apposta per far sembrare che sono io L'ha chiamato Big Ladro È palese che sta puntando su di me Perché come sempre Quando giochiamo ad Among Us Sono sempre sospettato E la stessa cosa è qua Comunque Io non voglio dar ragione a Ladro Di conseguenza quest'oggi Non voglio parlare troppo di lui Perché più ne parliamo Più lui aumenta Più fa video Più fa cose terribili Quindi noi lo calcoliamo poco Facciamo finta che non ci interessa E che non ci riguarda Ok Ok, ci sta Perfetto Vi voglio far vedere invece Che Fere non ha combinato nulla Cosa ben più interessante Qua dov'è venuto a finire tutta la zona E non l'ha fatto Che mi giustifica Ok, ma è sensata? Sì La vuoi sentire? Aspetta, ho sentito Barci Come? È di nuovo nascosto in mezzo agli alberi Sì, penso di sì L'ho sentito anch'io Barci Eccolo, aspetta Dov'è? Guarda, dov'è qui sopra? Scusami Ma Barci? Barci, scendi da lì Non è lì la zona in cui dovresti stare, Barci Non mi sembra una buona idea Vabbè, sto prendendo un po' di fresco C'è la primavera, Stef Si gode il sole Sei impazzito, sei Oh, mamma mia Dicevamo, Peter Allora, perché tutti sanno Anzi, non tutti Chi segue le mie live Che io in questo periodo Sto finendo la mia isola di Animal Crossing E quindi sto tryhardando Come se non ci fosse E questa era la buona ragione Un domani lì dentro Per ascoltarti e me ne vado Scusate, mi sono dimenticata Che dovevo entrare anche su Minecraft A costruire Invece Per la differenza tra Stef e Fere Io vi ho detto che avrei fatto il sentiero E adesso andiamo a vederlo Perché è praticamente completo Sì, questa settimana Stef è stato un bravo ragazzo Io un po' meno Ecco, ecco Però anche la mia isola di Animal Crossing È molto bella Lo sanno tutti Aspetta, Fere Che c'è? Uh Queste non c'erano Aspetta Aspetta, aspetta E se esplode? No E se ne attrappola? In effetti non vediamo Se ne attrappa il chest Aspetta No, no, non c'è del rosso Ascoltami Questo può essere il regalo di un ladro Tutta l'armatura in nederite E inciantata, Fere Mi sembra un po' eccessivo come regalo Capisci? Ecco Leggi il libro, prendilo Ok Prendilo, prendilo tu Se esplode anche il libro E non so se esistono maghi Dice sorpresa Ho paura di leggere Mangio un pezzo di pane prima Ok Leggi, io mi allontano Ciao amici Vediamo se siamo amici Vi ho preparato una sorpresa Ho formato per un po' di giorni Per prepararvi questi oggetti Dato che vi ho visto Che eravate senza trezzi di nederite Spero vi piacciono Fatene buon uso Stefo, se mori con questi item Ti verrò a cercare io Fere, non è firmato? Come non è firmato? Ah no, è Mark Mi ha fatto venire un infarto Ho detto Ah mamma mia Ma chi è? Qualcuno che ci sta facendo uno scherzo No è Mark Però ci ha spiato Però Stef Io di Mark un minimo sospetto Per tante cose che sono successe Ti ricordi quando l'abbiamo beccato in casa di Lorenzista Eccetera eccetera Oh che bello però No aspetta Forse non sospetto più di Mark No no Mark è un bravissimo ragazzo Fere Mark è un bravissimo ragazzo Mark è un bravissimo ragazzo Mamma mia ma che roba bella Sì 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 No è proprio È proprio un bravo ragazzo Secondo me non è un big ladro È un big bravo ragazzo È un big bravo ragazzo Mamma mia Guarda qualche equipaggiamento potentissimo Ma siamo fighissimi oltretutto Ma che bello Io non ho mai avuto un'armatura del genere Sto sbrillugicando Comunque c'è da dire che Stef Forse mi picchierei per questa cosa che sto per dire Ma la nederite più vuole del diamante Lo dico veloce così magari non si capisce Però è bellissima Tu preferisci qualcosa ai diamanti? È la nederite Guarda adesso tutto il set Lascia il piccone e la spada E chi mi frega più Ma dico io che bello Ciao amicetto Lo sai che mi hanno detto che è super super raro Me l'hanno confermato Te l'avevo già detto non ti fidi di me No no me l'hanno anche detto Ho letto i commenti E quindi mi hanno detto tutti che è super raro E siamo stati super fortunati Allora ascoltami un attimo Posso far vedere il sentiero? Sì sì Lo voglio vedere anch'io Dopo 5 minuti non ho ancora fatto No di no Anzi no è bello No è bello di notte Anzi secondo me Esatto il fantasy rende di più di notte Allora se vi ricordate l'obiettivo era fare un sentiero fantasy Per arrivare a casa nostra Parte da questo cancello qua Che possiamo ancora migliorare Sì però è carino È già un inizio Semplice e carino Ed è fatto in questo modo Guardate che bellezza Ma hai fatto tutto tu Tutto tutto Ma quanto ci hai messo? Qualche ora non neanche troppo Perché No vabbè ma è bellissimo Alla fine Fere Ho fatto crescere gli alberi con la vomial Il fungo e il pezzetto di terra Ok quella blu Ok sì sì vedo tutto Vedo tutto Fere Aiuto Lo dobbiamo catturare Come lo dobbiamo catturare? Si può prendere con la corda il pollo? No e dove lo metti? Stef ci fa fuori tutti gli altri animali Non è una buona idea Dobbiamo trovare un modo Fere Porta vieni 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 E destino Tipo qua lontano però eh Lo mettiamo vicino all'altro lama Ma per scusami Non vorrei dire una fesseria Ma non prende fuoco di giorno E beh di giorno sì Però se lo mettiamo Se lo nascondiamo no Eh tipo Ma Stef è aggiunto del bambù qua per caso? No Non c'era tutto questo bambù Non l'ho aggiunto Eh però scusami Qua c'era il lama Comunque potresti metterlo qua No lì brucia Fere Non è coperto Non è coperto Ma posso metterlo nel seminterrato di casa nostra Dove non c'è nessuno ad oggi Eh dove non c'è nessuno però Stef Se fa fuori il gattino Ti ammazzo eh Allora C'è la volta buona che non la continua La big vanilla Vieni 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 Attento a non avvicinarti troppo Ok Ah Perfetto Rimani lì Andiamo Bello Chiudi tutto Mi raccomando Anche se è un po' pericoloso Tenerlo lì sotto Vabbè ma è chiusola Dai Non è niente troppo pericoloso Vabbè speriamo bene Allora E mi stavo facendo vedere appunto tutto il sentiero Dicevo non ci ho messo troppo Perché appunto ho fatto crescere gli alberi in modo naturale Come ti avevano consigliato Come mi avevano consigliato E sinceramente è stato molto più rapido Poi alcuni li ho modificati un pochino ovviamente Certo Ho fatto crescere tutta l'erbettino Utilizzando la bombilla anche nella terra blu In modo tale da far crescere tutta l'erbetta blu I funghetti e tutte queste cose Infatti è bellissimo l'erbetta attorno Ho messo qualche recinto nero Che secondo me ci sta benissimo I wall Ok Secondo me ci stanno veramente alla grande E sono veramente soddisfatto Però devo dire una cosa Cosa? Ok Marcia ha costruito la nuova casa di Mattiz Ok E in mezzo alle scatole Come in mezzo alle scatole? Aspetta 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 Perché io qua devo finire tutto il sentiero Fantasy Tu arrivi qui Comunque è bellissimo Percorrelo è bellissimo Steph super complimenti Guarda però No da Vedi? No Quindi io vorrei fare una richiesta Steph Posso diventare il big ladro e farla esplodata? No 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 Non posso Però possiamo fare una cosa Stammi vicina? Ok Ci stanno guardando Ok ok Signor big ladro Se vuole Il nostro supporto Ok Anche in Qualora servisse delle votazioni Materiali Qualunque cosa Le servisse Signor big ladro Se quella casa esplode Noi siamo dalla sua parte Esatto Ok Proprio così Grazie mille Perché dobbiamo finire il nostro sentiero Grazie big ladro Fede? È arrivato un po' di gente Occhio che non ci siano creeper eh Se esplode tutto Mi arrabbio Ascoltami un attimo Dato che Mark ci ha regalato tutta l'armatura Ok Io ho preso anche un piccone Senza dirtelo Che ci ha regalato Non è quello che è tu È un piccone con fortuna Ma che il mio fortuna? Quanto ha? Fortuna 3 Quello che mi aveva regalato Mark Ti ricordo un sacco di tempo fa Avevamo un piccone con fortuna 3 Non lo sapevo Sì Effettivamente non ho guardato che effetti Avesse me ne sono accorta ora Vabbè più zombie vogliono arrivare oggi Vabbè almeno Ma che succede? È un partito di zombie T-shirt o Steph Scusa non avevo mai guardato gli effetti Mi dispiace Mi approfittiamo Comunque sì va bene a tanti Fission, Unbreaking, Mending, Fortune Fortuna 3 però Mi approfittiamo e facciamo una cosa Che non abbiamo mai fatto Da quando siamo nella Big Vanilla Andiamo a prendere diamanti Wow Sì E se li troviamo si moltiplicano con la fortuna Bellissimo Tanto il piccone anch'io Quindi doppia ricerca Steph andiamo benissimo Ma che cavolo ha preso Fede? Oh brutto ladro Sei tu il big ladro No vabbè È troppo banale Non potrebbe essere lì Steph ci spostiamo Io non so veramente cosa sta succedendo Bisogna illuminare tutto attorno Nella foresta ragazzi Sì 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 Il prima possibile Assolutamente Guarda ne arriva un altro Torniamo un attimo a casa No anzi Decidiamo di attento dove andare Seguimi Vieni 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 Siamo scesi dall'inalto qui E si vede della lava Quindi potrebbe essere una zona Allora diciamo un attimino Ci abbiamo messo tipo 15 minuti A trovare una zona che non è già esplorata da qualcuno Sono delle cavolo di tante Hanno rubato tutti i diamanti Noi non siamo mai una timiniera Quindi non so proprio questa cosa Ma sono dei pazzi criminali Lo so che vanno in live tutti i giorni Ma hanno minato qualsiasi cosa Comunque È una zona interessante Perché lava lo sapete Spesso e volentieri Uguale diamanti Allora 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 Non mi sono portato un piccone in ferro So che dovrei per non sprecare Questo di nederite Eccetera eccetera Ce l'ho io Usalo Ok dai così Almeno facciamo le cose fatte bene Ok Secchiello di acqua In modo da far sparire tutto il tempo la lava Hai anche le torce Le piatti tu? Sì Stef Fatte io Allora Fede sinistra o destra? Io scelgo sempre la sinistra Andiamo a sinistra Però ho tanta sfortuna Ok Vuoi prendere l'oro Per vedere quanto ce ne dà con fortuna 3? Sì assolutamente sì Allora Metti un po' di torce Esatto Che appena spegni la lava Non si vede nulla Vediamo Vado? Vai Vai tu vado io Ma ne dà solo uno Solo Aspetta Uno Spera Ma è la fortuna meno fortuna del mondo? Evidentemente sì Vabbè vediamo Dai vediamo con i diamanti Quanti? La fortuna non funziona Sull'oro Ma funziona sui diamanti Quanti li hai trovati? Me ne ha dato quattro Wow Il problema è che Questa è la fortuna nella fortuna Era proprio uno Proprio uno Ok Cioè ma l'hanno messo per pietà Mi sa che ci conviene scavare a caso Esatto Io odio scavare a caso Però a questo punto ci tocca Partiamo tipo da qua E faccio una tecnica incredibile Adesso un attimino Che inizio a scavare Ti vado ancora al piccolo Vabbè ormai Sì no perché almeno vado veloce Fere Altrimenti tra tre mesi No abbiamo trovato un altro diamante Te lo dico io Quindi andiamo un po' veloci Che dobbiamo fare un bel po' di bottino Nel mentre mia cara Fere Possiamo chiacchierare del big ladro Io ad esempio ti vorrei dire i miei sospettati Ok vai Allora Io poi ti dico i miei Il primo sospettato è che noia Martina Perché continua a buttare tutto su di me Ok Ed è interessante Però lo fa anche su Among Us Lo fa anche su Among Us Però questa volta Magicamente sono comparsi dei video Dove ci sono io che faccio le cose Però magari Sto antipatico a tante persone Lo devo ammettere Fere mi servi con la pala Grazie Eh Arrivo Ce l'ho? Sì No non ce l'ho Ma ce l'avevi? No penso di averlo lasciato a casa Fere ma sei veramente? Eh lo so Non ho niente neanche per crearla A mani nude vai Vabbè Ok E dicevo Ci metterò la vita E quindi lei è la prima sospettata Proprio perché punta sempre su di me Poi abbiamo Kendal Che Magicamente Si è trovato un animale di Marci In casa Ok Il suo pappagallo era a casa di Mark Ok Ok Anche questa è una cosa molto interessante Ma soprattutto potrebbe aver messo la sua skin Per fare il ragionamento che i Bigger Ladder Non avrebbe mai utilizzato la skin del vero colpevole E in realtà era lui Beh Anche quella è un'opzione Sì potrebbe Potrebbe Sì 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 E poi mi sembra uno abbastanza intelligente Da poter fare tutte queste cose Cosa che altri nella serie Devo essere sincero Non mi Non mi sembrano Tipo diciamolo Lorenzist Per me Ma no Non ce la può proprio fare Ad essere il Bigger Ma proprio No beh È positivo Almeno non è sospettato E quindi vive una vita migliore Secondo me è una cosa molto positiva Ti meriti degli insulti per questo Poi 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 Al terzo posto Non c'è nulla qui Abbiamo il vicino troppo gentile Ok Occhio che ho fatto un buco Per vedere più o meno dove stavamo Quindi non ci cascare sotto Ma questo Sì Ma perché Boh Perché volevo vedere tipo se trovavo lava Ma non l'ho trovata e mi sono stancata subito Vai Passa Ok È perché devo fare varie zone io Ho capito Eh lo so Praticamente tu devi scavare in più zone Fin quando non trovi Comunque sto già spaccando sto cavo di piccone Nel senso che tra altri mille blocchi Lo distruggo E lo sto sprecando Ma almeno vado veloce E dicevo Abbiamo anche il vicino buono Che è il mio terzo sospettato Marci Ah beh Nessuno ci sta pensando È un bravo ragazzo Non c'entra in nulla Se ci pensi Perché non gli è successo ancora nulla di veramente particolare Non lo so Sai quando uno è troppo bravo Inizia a diventare sospetto Sì 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 Non lo so Anche lui un pochino È tornato Marcello Marcello Anche lui è tornato sputtacchiotto però Sì Stef Dimmi Ho preso i lapis Ne ho trovati due Sai quanti ne ho? Ah ah 48 Asino cotto Finalmente 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 E questa volta sono tanti Allora Quanti Vai vai Non voglio prenderli Quanti sono e quanti ne prendi Io comunque Stef sono andata lontanissimo Quindi niente Sto continuando a scavare all'infinito Non uscirò mai più da qui Però non stai facendo la tecnica E mi sono anche persa Quindi Stef a recuperarmi qua ci vorrà Non lo so Una spedizione Ma chi ti recupera Fere Ma chi ti recupera? Tu Allora dovrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5 teoricamente Ok Parto che ne ho 4 Uh Gli ho appena trovati Non ci credo Allora Sta Sta Che bello Sta Sta In realtà ancora di più Fere 22 No Allora Vediamo quanti ne prendo io Allora 1, 2 Mannaggia C'è la lava proprio appiccicata Stef Quei disastro Che male Non cadere Ah Eccomi Credo Dannazione Corrente schifosa Sali Dopo un'ora ce l'ho fatta Fere il problema è che non ho ritrovato la strada giusta per tornare a casa Quindi non so Né dove siamo Né da dove ritagliamo Allora L'importante è uscire Sono d'accordo Poi da qualche parte Sbuchiamo E ricerchiamo la strada di casa Posso dirla che sta spada è fortissima Lo so Come fa di esserci un blocco di grass Ma Uh Non lo so Buongiorno Ma dove cavolo siamo finiti Comunque Steph Dimmi Che non ti ho aggiornato Ne ho trovato circa 5 E me ne hai dati 15 Ok Quindi ne ho 15 Ok Più quelli che ho conservato a casa sono stra ricca Tieni Questi sono altri 22 Grazie È un bel bottino È bellissimo È proprio un bel bottino oggi Allora Saliamo Forza 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 Attimo che devo mangiare Non ho voglia di farmi il dungeon Anche perché probabilmente l'ha già esplorato anche qualcun'altra Anche se non ci sono torce Quindi forse no No ma poi oggi abbiamo già fatto un'esplorazione lunghissima Mannaggia Guarda Questa perché non è la pala Guarda qui che c'è tutto dirt Mannaggia Ma Siamo già arrivati Ma Ma davvero No Steph Però non fa ste robe Che brutto sto rumore della lava Ma Dove siamo? In mezzo alla nostra foresta No serio Te lo giuro Siamo tornati qui Sì 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 Correndo da una parte all'altra Ah vabbè sì Correndo da una parte all'altra vai Così poi torna grassa prima o poi Ah Bellissimo Ma come abbiamo fatto? È perché abbiamo il dungeon sotto casa Siamo di fronte a casa praticamente Bello Buongiorno Ma che fortuna incredibile Salve Salve a tutti Salve polli Quanti siete? Ma Cosa è successo ai polli? Ma Erano tipo Sei in più Sì erano tantissime Fere? No E non ci sono neanche le uova Hai visto? No le uova le ho appena preso Ah ok Aspetta che c'è un zombie dietro Vai via Non lo so Maledetto Non me ne ero accorta dei polli effettivamente Ma neanche io Assolutamente Parecchio strana sta roba Parecchio strana Ciao picetto Finché toccano quei polli non mi interessa Allora qua abbiamo preso tutto Poi dobbiamo spostare un attimino Il gatto sta bene Sputacchiotto sta bene Garibaldi sta sempre benissimo E super mega in forma Abbiamo il nuovo zombie polletto Lì sotto Da qualche parte Che dobbiamo lasciare recluso Per adesso Dobbiamo stare molto molto attenti Qui Arancia Che non può avere la nuova casa Per colpa di Ferre che gioca All'animal crossing E basta ragazzi Al momento è così Vi dico sinceramente È probabile che il prossimo episodio Ah piove Ah che bello Non vedevo la pioggia tantissimo qua Che bello Io adoro la pioggia Perché da un fulmine Sarà meno bello No bellissimo Stavo dicendo Che probabilmente il prossimo episodio Diventeremo di nuovo Dei big detective E inizieremo a cercare qualcosa Io voglio trovare la sua base Se trovo la sua base È spacciato Hai visto che l'ha fatta vedere Sì Mannaggia eh Chissà dov'è Non ho idea Ma cosa ne sappiamo dov'è Sarà sicuramente anche lontanissima Qualcosa di genere Fatti Comunque Noi Ci fermiamo così sotto la pioggia Speriamo che questo episodio A big vanilla vi sia piaciuto Le cose stanno diventando Veramente interessanti Ma anche pericolose Col big ladro Speriamo di scoprire presto Chi sarà E di bloccarlo Prima che arrivi a minacciare Anche noi Come ha fatto con bella faccia Sotto questo mi piace Per il video Iscriviti al canale Campanellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao